Il primo a fare rientro è stato quello dei metallurgici che da nove mesi si trovava nella chiesa di San Nicola dove il gruppo ha subito un restauro conservativo riportandolo dopo vari interventi nei secoli agli originari colori della ricostruzione ad opera di Vito Lombardo nel 1765. Martedì pomeriggio sono rientrati da Tarant dove sono stati esposti in occasione della manifestazione I Volti della Passione, i gruppi della flagellazione dei muratori Scalpellini e Lecce Uomo dei calzolai e calzaturieri. È stata una grande emozione quella vissuta sabato scorso alla consegna di questo restauro una bella emozione rivedere il gruppo finalmente nella sua postazione presso la chiesa del Purgatorio visto che dopo la conferenza il gruppo è stato trasportato a spalla proprio è ricollocato nella sua nicchia. È stata una grande emozione il trasporto perché perché lo abbiamo trasportato in senso praticamente lateralmente nel senso più stretto così come avveniva fino al 1970. Quindi abbiamo riassaporato un poco questo aspetto storico e molti hanno apprezzato questo trasporto. Siamo contenti, ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto in questo progetto di restauro a partire dalla nostra categoria i metallurgici che hanno abbracciato e sposato il progetto e anche le aziende che fanno riferimento alla stessa categoria che hanno speso più energie per il raggiungimento di questo obiettivo. Grazie a tutti.